Sesto giorno di raid aerei della coalizione occidentale sulla Libia. L'obiettivo è Tripoli e le roccaforti del regime. Bombe su caserme e installazioni militari ci sarebbero morti. Il Reis denuncia uccisi anche civili che Dati resiste e cerca l'appoggio delle tribù del nord del paese. Non c'è accordo diplomatico sul ruolo della Nato nell'intervento militare in Libia. La Francia insiste, frena, no, alla guida politica che sarà di un gruppo ristretto di contatto. L'Italia stoppa il governo di Sarkozy e Frattini dice no ad azioni militari non condivise. Si cessi il fuoco e si apra un negoziato. Oggi nuova riunione dell'Alleanza a Bruxelles. Il caso Rubi, dopo il voto in giunta per le autorizzazioni, oggi si riunisce l'ufficio di presidenza della Camera che il regolamento alla mano dovrà decidere se è necessario un voto dell'Aula sul conflitto di attribuzione con la procura di Milano. I PM annunciano, noi andiamo avanti. La nazionale di Prandelli parte per Ljubljana. Domani sera affronta la Slovenia per le qualificazioni europee. Il Citi Azzurro punta sulla coppia Pazzini-Cassano, già compagna la Sampa e ora rivali nella corsa Scudetto a Milano. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. In primo piano la crisi in Libia. Un'altra notte di attacchi da parte delle forze della coalizione. Bombardati alcuni obiettivi a Tripoli, il regime di Gheddafi denuncia 18 morti, tra cui alcuni civili. Sentiamo Luca Del Re. Davanti alle bombe della coalizione internazionale con le difese militari seriamente danneggiate, il regime dei Gheddafi si affida ora alla difesa territoriale che alcune tribù del nord gli avrebbero garantito dopo questo vertice, ieri non lontano da Tripoli. Accade in previsione di uno scontro di terra con gli insorti, che stanno riprendendo forza dopo l'intervento straniero con le stesse truppe della coalizione, semmai venissero impegnate in missioni sul suolo libico della capitale. Intanto la notte è stata caratterizzata da una nuova serie di nove forti esplosioni, testimonianza sonora di altrettanti bombardamenti, dal cielo come dal mare, da parte della coalizione. Colpite una scuola di ingegneria a Tajura, periferia della capitale, ancora installazioni militari nell'area di Jafar. Queste invece sono le immagini di alcuni uffici del RAIS, danneggiati dopo gli attacchi portati contro Tripoli nei primi giorni di scontro. Scontro che sta ridando forza, dicevamo, alla ribellione a Benghazi, roccaforte degli insorti. La popolazione è tornata in strada a manifestare contro il regime libico dopo giorni trascorsi nelle case e nei luoghi protetti sotto attacco delle forze governative. I ribelli denunciano la morte di 16 persone a misurata dopo il bombardamento da parte delle forze di Gheddafi contro l'ospedale della cittadina da giorni, teatro di un'aspra battaglia. Dal canto loro, gli uomini del regime avrebbero mostrato ad alcuni giornalisti stranieri corpi carbonizzati di 18 civili. Testimonianze non confermate parlano di un attacco aereo contro una caserma a cui avrebbe fatto seguito un secondo bombardamento alleato, stavolta riservato a chi soccorreva le vittime del primo raid. E oggi il Consiglio Atlantico tornerà a riunirsi per definire la posizione della coalizione internazionale. Intanto l'ammiraglio Rinaldo Veri sarà il responsabile del comando navale per il Mediterraneo. Caterina Bizzarri. Nato in alto mare sul comando delle operazioni militari in Libia, si è chiusa con un nulla di fatto ieri sera la lunghissima riunione tra i 28 Paesi membri della Nato. Restano le divisioni sul ruolo dell'Alleanza Atlantica nell'operazione in Libia. La Nato si occuperà principalmente di fare rispettare l'embargo delle armi, bloccandone il flusso illegale verso la Libia. Abbiamo prove e rapporti di intelligence, ha detto la portavoce Oana Lunghescu, che questa è un'attività che continua, ma per quanto riguarda la catena di comando, i 28 restano ancora divisi. I piani operativi sono già definiti e la Nato è pronta ad agire se e quando sarà richiesto, dice la Lunghescu, non aggiungendo molto di più. A frenare è ancora la Francia, che non molla sulla guida politica che vorrebbe affidata ad un gruppo di contatto tra i ministri degli esteri dei Paesi e della coalizione, di cui fanno parte Stati Uniti, Gran Bretagna, Paesi Europei, ma anche l'Unione Africana e Lega Araba. Secondo quanto ha annunciato il ministro degli esteri d'Oltralpe, Alain Juppé, la cabina di regia politica non è la Nato, ma questo gruppo di contatto, che avrà il compito di prendere le decisioni vere, quando, come e dove attaccare. L'Alleanza avrà solo un ruolo tecnico. L'Italia è tornata a chiedere un comando unificato sotto lo scudo dell'Alleanza. Avrà comunque un ruolo di primo piano nella missione per il rispetto dell'embargo delle armi con il comando navale dell'operazione. Se è l'unità della Marina Militare impegnate, l'ammiraglio Rinaldo Veri starà il responsabile del comando navale dell'Alleanza a Napoli per il Mediterraneo. Il dibattito politico sulla missione italiana in Libia. Ieri è arrivato il Via Libera dal Senato, nonostante le resistenze della Lega. Sentiamo Franco Rina. Ieri sera, al termine di una lunga giornata di dibattito, Via Libera del Senato alla missione italiana in Libia. 156 voti a favore, 15 contrari, una sensione, per la risoluzione della maggioranza, risoluzione integrata con quella del PD. All'inizio il testo del PDL e Lega non aveva convinto le opposizioni, tanto che sono risultate cinque risoluzioni sulla Libia presentate al Senato. Alla fine comunque si è praticamente concretizzata quella convergenza tra democratici e centrodestra, chiesta dal ministro Frattini nel corso del suo intervento. In aula ci sono i ministri della difesa e degli esteri, ma non il presidente del Consiglio, come invece avevano chiesto tutte le opposizioni. Occorre il comando unificato della Nato perché l'Italia deve evitare il rischio di azioni militari non volute da parte di altri paesi, spiega il capo della nostra diplomazia, che rivendica il merito del governo per l'accordo sul comando affidato all'Alleanza Atlantica. È stato un nostro successo, dice, difende comunque l'azione militare, non si tratta di fare la guerra ma di impedirla. E il ministro della difesa aggiunge, l'Italia non ha messo a disposizione i tornado che dispongono di bombe dirompenti, ma quelli capaci di oscurare, di colpire e rendere inservibili i radar nemici e quindi di neutralizzare la contraerea. Sempre critica la situazione a Lampedusa, nonostante l'intervento della nave della Marina a San Marco. Sull'isola rimangono migliaia di migranti, mentre scoppia la polemica per il trasferimento nel centro di Mineo. Ce ne parla Camilla Moreno. Sbarchi e partenze, una contabilità precaria a Lampedusa. Dall'isola vengono trasferiti circa 1200 immigrati, ma ne arrivano altri. L'ultimo barcone di questa notte, a bordo 62 persone, ma altre carrette del mare sono state avvistate. La nave da guerra della Marina Militare San Marco, dopo aver imbarcato faticosamente ieri circa 550 immigrati, sta per arrivare nel porto di Augusta, in Sicilia, portandosi dietro una scia di polemiche. Le persone a bordo saranno trasferite nel villaggio della Solidarità di Mineo e non nelle tendopoli da allestire in aree militari tra Sicilia e Puglia, come annunciato nei giorni scorsi. Una decisione che ha fatto infuriare il governatore della Sicilia, Lombardo, che ha chiesto un consiglio dei ministri straordinario sull'emergenza e migrazione. A Lampedusa, gli extracomunitari continuano a vivere in condizioni impossibili tra il centro di accoglienza e i campi di fortuna, tirati su dagli stessi tunisini nelle campagne vicine al porto e all'aeroporto. Una miserabile tendopoli affollata fino all'inverosimile. Oggi il direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Gianni De Gennaro, riferisce al Copasir sul pericolo di infiltrazioni terroristiche tra i migranti. Il disastro nucleare in Giappone. Nessun rischio per l'Italia, assicurano gli esperti per la nube radioattiva di Fukushima. Il ministro della Salute, Fazio, rassicura solo correnti d'aria assolutamente non tossiche. Intanto sono ripresi i lavori di riattivazione dell'impianto di raffreddamento al reattore numero 3. Daniela Grandi. La battaglia per riportare sotto controllo la centrale di Fukushima non conosce sosta. È stata parzialmente ripristinata l'energia elettrica nella sala di controllo del reattore 1, mentre questa mattina sono ripresi i lavori per riattivare l'impianto di raffreddamento del reattore numero 3, bloccati per un giorno a causa della fuoriuscita di fumo nero. Fuoriuscita che, secondo l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare Giapponese, non ha fatto aumentare il livello della radioattività, che resta però altissimo. A Tokyo si sconsiglia di far bere acqua da robinetto ai bambini. Masse d'aria contaminate dal materiale fuoriuscito dalla centrale giapponese sorvoleranno oggi. L'Italia, il ministro della Salute, Ferocio Fazio, rassicura, si tratta di correnti d'aria assolutamente non tossiche e non pericolose. Il governo ha comunque deciso di congelare per almeno un anno il progetto di ritorno alle centrali atomiche, mentre non si fermano i promotori del referendum contro il nucleare si voterà il 12 e il 13 giugno. In Germania, il cancelliere Merkel ha annunciato più presto la Germania uscirà dal nucleare, meglio sarà. Ci sono due aggiornamenti per quello che riguarda la questione nucleare. Le autorità americane infatti hanno annunciato controlli di sicurezza in tutte le centrali degli Stati Uniti alla luce di quanto accaduto alla centrale di Fukushima in Giappone dopo il sisma e lo tsunami dell'11 marzo. Il 17 marzo scorso il presidente americano Barack Obama aveva annunciato di aver dato l'ordine all'autorità per il controllo nucleare di procedere ad un riesame completo della sicurezza delle centrali nucleari americane alla luce della catastrofe avvenuta in Giappone. Purtroppo c'è un altro aggiornamento che arriva dal Giappone perché tre operai del reattore 3 della centrale di Fukushima sono stati ricoverati in ospedale perché contagiati dalle radiazioni. Adesso torniamo in Italia con il caso Rubi. Ieri la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato parere favorevole di misura per sollevare il conflitto di attribuzioni. Stamattina la questione passa alla Giunta per il regolamento presieduta da Fini. Sentiamo Giulia Lauletta. Sul caso Rubi è passato per un solo voto il sì al conflitto di attribuzioni tra Parlamento e Procura di Milano. Secondo la Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio hanno ragione i capi gruppo della maggioranza nel ritenere che il reato di cui è accusato Berlusconi, concussione per la telefonata alla questura di Milano, sia di natura ministeriale avendo agito nella sua funzione di presidente del Consiglio. Uno scandalo attacca l'opposizione perché i due deputati Elio Belcastro e Bruno Cesario si sono presentati in Giunta solo dopo aver avuto la certezza che Saverio Romano, leader del gruppo, era stato nominato al Ministero dell'Agricoltura. La linea è contestata dai magistrati di Milano che fanno sapere che il processo non si fermerà nemmeno se la questione arriverà davanti alla Corte Costituzionale. Tocca la Giunta per il regolamento presieduta da Fini, il presidente della Camera, annunciato che non ostacolerà la mozione. Poi l'ufficio di Presidenza dovrà stabilire se serve un voto della Camera. In aula la questione potrebbe arrivare proprio alla vigilia della prima udienza del processo, fissato il 6 aprile. Se alla Camera passerà la linea della maggioranza votata oggi in Giunta, per le autorizzazioni sul conflitto dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale. Una lettera aperta per denunciare la forte presenza dell'Andrangheta al nord e combattere l'omertà. L'ha scritta il procuratore di Reggio Calabria, Pignatone, al Corriere della Sera. Sentiamo Simone Costa. L'Andrangheta ha colonizzato ampie zone della Lombardia. Basta omertà, reagite. A lanciare il grido d'allarme il capo della procura di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, che sulla prima pagina del Corriere della Sera si rivolge ai cittadini del nord Italia e denuncia un problema a lungo ignorato nella regione settentrionale. L'Andrangheta scrive Pignatone a grande capacità di progettare a lungo termine in tutti i settori cruciali, da quello politico a quello economico, una struttura che al nord rimane in stretto contatto con la casa madre, ma mantenendo un certo grado di indipendenza. Pignatone termina con un appella da società civile, definita importante come la magistratura e le forze armate per combattere le mafie. La lettera del procuratore richiama la recente relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia al Parlamento. La DNA parla di 500 affiliate di un'Andrangheta che a differenza di mafia e camorra continua a crescere e prosperare, soprattutto nel nord. A conferma basta citare lo scioglimento del comune di Desi in odore di Andrangheta oppure 35 arresti di affiliati a clan di Africa e Reggio Calabria avvenuti a Milano lo scorso 14 marzo. Inizia oggi a Roma il processo sulla morte di Stefano Cucchi, il geometra romano, 32enne, morto nel 2009 all'ospedale Pertini, sei giorni dopo il suo arresto per droga. A giudizio ci sono 12 persone, 3 guardie carcerarie, 3 infermieri e 6 medici dell'ospedale romano. Devono rispondere tutti di abbandono di persone incapace, eccetto un medico accusato di abuso d'ufficio e falso. I familiari di Cucchi contestano in particolare le conclusioni della consulenza medico-legale che ha attribuito la morte del giovane non tanto al presunto pestaggio nelle celle di sicurezza del Tribunale di Roma quanto all'abbandono nella struttura protetta dell'ospedale dove era stato ricoverato. Pensiamo alla pagina sportiva. Domani a Lubiana l'Italia di Prandelli affronta la Slovenia per le qualificazioni ad Euro 2012. La vigilia azzurra nel servizio del nostro inviato Francesco Izzi. Nella nazionale che sulla rotta europea fa tappa a Lubiana c'è il nuovo padrone della fascia a sinistra Federico Balzaretti è abituato ad allenarsi con gli sloveni Bacinovic e Ilicic. Diventa quindi per tutti un osservatorio privilegiato. È una squadra in netta crescita, sono nazionali giovani ma che stanno facendo molto bene e hanno sicuramente dei grandi valori perché sono giocatori che ormai quasi tutti giocano in Europa, nei campionati principali e quindi sicuramente sono di livello. Prandelli ieri contro l'Under-18 ha provato la formazione titolare con il capitano Buffon, Bonucci e Chiellini dopo il forfait di Ranocchia tornato a Milano, più gli esterni Maggio e Balzaretti. Tanta qualità in mezzo, la bussola Tiago Motta spalleggiato da Aquilani e Montolivo. Poi il centrocampista più avanzato Mauri interprete delle giocate per Pazzini e Cassano. Nel nuovo che cerca la dimensione internazionale, sulla fascia a sinistra ci sarà la corsa a perdifiato di Balzaretti, non più di primo pelo. A Firenze era stato bocciato da Prandelli che adesso premia il suo impegno e la sua crescita. A me poi, guarda, ti dico che è capitato tutto il contrario di tutto, dal Toro sono andato alla Juventus, dalla Juventus sono andato alla Fiorentina. Ho fatto tutto l'opposto di quello che, insomma, ho fatto tutte le scelte difficili. Balzaretti già da un po' è sotto osservazione dei grandi club, per Zaccardo dovrebbe andare al Milan. Lui sta benissimo in Sicilia, insieme alle due bambine e alla compagna, una prelmitana doc come l'etuale Leonora Bagnato. Uno naturalmente fa delle scelte e sa che cosa va incontro, però penso che naturalmente è la mia vita privata, sono molto felice, sono molto innamorato e sto molto bene. E quindi, insomma, se se ne parla in maniera positiva, ben venga. E per i protagonisti della Formula 1 sta per scattare la nuova stagione. I piloti ingannano l'attesa nei modi più diversi, ma domattina, a quest'ora, saranno tutti in pista per le prove libere del Gran Premio d'Australia. Fabrizio Calia. Un po' per abituarsi al fuso orario, un po' per onorare impegni promozionali, da diversi giorni i piloti stanno arrivando alla spicciolata a Melbourne. E allora la palma del più originale spetta alla campione del mondo in carica, Sebastian Vettel, si è cimentato in un lavoro che più australiano non potrebbe essere. Certo, il risultato non è stato all'altezza dell'impegno, saprà senza dubbio rifarsi una volta impugnato il volante. Il numero 1 sulle fiancate mi dà grandi motivazioni, spiega, ma non vantaggi effettivi. Soprattutto dopo le modifiche al regolamento, ripartiamo tutti dalla stessa linea e l'elenco dei miei rivali è lunghissimo. Sarà, ma per adesso, un leggero vantaggio, glielo danno gli scommettitori internazionali. La sua riconferma è quotata 3,4 contro il 4 di Alonso. Il ferrarista fa professione di ottimismo e si sente in grado di competere fin dalla prima fase della stagione. Chi non aveva affatto bisogno di dimostrarsi australiano, è chiaro, risponde invece al nome di Mark Webber. Eccolo alle prese con le tradizionali snacks, saporitissime salsicce da cuocere alla griglia. Webber giura che il 2011 sarà il suo anno, una promessa difficile da mantenere, ma che può senza dubbio infiammare il pubblico di casa molto più del jogging del britannico Hamilton. Tutta Glamour, invece, la passerella del suo compagno di colori, Jenson Button, suo buon amico, ma ancora per pochissime ore. È tutto per Servizi e Notizie. Vi ricordo il nostro sito www.tgla7.it. Adesso vi lascio al dibattito in compagnia di Edgardo Gulotta. Buon proseguimento.